oggi a lezioni di etichetta valsoia da sempre lo specialista dell'alimentazione vegetale ci parla dei suoi gelati tanti gusti e varietà tutti prodotti in italia tutti 100% vegetali e naturalmente senza lattosio per questo facilmente digeribili per chi è intollerante al latte e dall'esperienza valsoia la freschezza del cocco in una croccante copertura di cioccolato ogni giorno sia valsoia alla prossima lezione